Tutta la squadra deve aiutarlo come lui deve aiutare la squadra e come lo sta facendo. Sono contento delle giornate che fa, il giorno dopo giorno. Dusan è un ragazzo che arriva al mattino, porta grandissimo entusiasmo sia per sé stesso ma anche per gli altri. Anche per me come allenatore, vederlo al mattino che arriva, posso dire che è una cosa interessantissima perché arriva con grande voglia, con grande energia, positiva, cercando di aiutarsi ma aiutare anche al compagno e sono molto contento da quello che sta facendo, molto contento. E domani? Le altre due partite della settimana abbiamo tempo di parlare, preparare e sapere cosa dobbiamo fare. E domani, il focus è domani. Domani è la partita importante perché domani è la prossima e è questo che siamo concentrati per fare una partita seria contro una squadra che sta bene, rispettarla come abbiamo rispettato tutte le nostre avversarie, come lo faremo nel futuro, però dobbiamo essere, saremo concentrati su questa partita. Empoli, Empoli è Colombo, Pellegrini, Malè, tutti i giocatori di qualità che noi dobbiamo essere pronti ad affrontarli e fare il nostro meglio. Poi tutto il resto lo vedremo dopo. Lo vedo molto bene, Dani è un giocatore importante per noi come tanti altri che abbiamo in squadra. Con il Brasile ha giocato da terzino, un po' più bloccato, quasi in costruzione come un centrale, lo può fare da noi, lo può fare anche centralmente perché l'ha già fatto e ha tutte le caratteristiche per farlo. Di partita in partita vedremo cosa ha bisogno le squadre per essere competitivi ogni partita. Penso che sono troppe supposizioni. Prima cosa non mi ha chiamato. La seconda io penso che in quel momento, se mi ricordo bene, ho detto che gli auguro il meglio e che lui sia felice e continuo a pensare alla stessa cosa. Lo voglio bene sia come ragazzo, come giocatore. Ha preso una strada diversa e gli auguro sicuramente di trovarsi una squadra che possa essere felice e dimostrare tutto il talento che ha. Non ha cambiato niente. Bene, molto bene. Si sono allenati bene. Contento che sono rimasti con noi ad allenarsi, ma anche contento su quelli che sono andati nazionali e hanno partecipato, hanno giocato delle partite, esperienze diverse. e sono tornati tutti bene. Sono contento perché abbiamo quasi tutti a disposizione. No, dall'inizio sapevamo qual era il calendario, le partite da affrontare e domani, concentrati, determinati, è una partita seria. Una partita seria è affrontare un Empoli che sta bene. Sta bene in questo momento. Ha fatto tre partite molto bene e anche noi stiamo bene. Abbiamo preparato in questi due giorni con tutta la squadra a disposizione e siamo pronti per affrontare, ripeto, una buona squadra come l'Empoli. Due grandi giocatori che abbiamo, con tanti altri nella rosa, nella squadra e vedremo domani chi inizierà la partita e chi subentrando potrà dare il contributo. Però, ripeto, due grandi giocatori che abbiamo la fortuna di averli della nostra parte come tanti altri che abbiamo nella nostra rosa. Non c'è nessuna difficoltà.